Questa ragazza ha cercato di entrare, è entrata ovunque nella mia vita, è entrata veramente dappertutto, in tantissime sfere della mia vita e io gliel'ho lasciato fare, è entrata con regali, attenzioni, atteggiamento ossessivo di attenzione continua, una cosa veramente estrema, assurda, e poi alla fine dei conti c'è stato il secondo passaggio, che è lo step che stiamo per andare a vedere. Quindi quando vedi che una persona si avvicina a te in tutto questo modo, super presente, sempre presente, sempre attento, ti fa regali, eccetera, ma è sbilanciato se ci pensi, perché a chi è che fai questa cosa? Lo fai a una persona che ami, a una persona che vuoi coltivare, che vuoi corteggiare tanto, non lo fai al tizio che è appena conosciuto, non vai da uno che sta per strada e fa il barbone e gli fai 3.000 regali, no, perché lì è stona, è qualcosa che va un po' fuori dalle linee, per la gran parte dei casi sta andando fuori dalle linee, poi magari c'è qualcuno che lo fa soltanto per il gusto di farlo, però ragazzi, occhio, perché chi fa questo lo fa per avere qualcosa in cambio. Non stiamo parlando di beneficenza e tu vai lì e regali i soldi a un senza tetto, stiamo parlando che tu fai delle cose in amore per ottenere qualcosa, perché sai che dietro l'intento del narcisista c'è l'ottenimento di qualcosa, se è una donna, magari c'è l'ottenimento di una relazione seria, di qualcosa di più committed, no, di qualcosa di più stabile, di qualcosa di più definito, perché andiamo subito al dunque, magari un uomo invece andiamo subito al dunque, andiamo subito a letto e allora lo fa perché eventualmente è l'unico modo che conosce per corteggiarti nel modo giusto. Questo fanno gli uomini nei confronti delle donne, si può come modo narcisista, e questo fanno le donne nei confronti degli uomini in stile narcisista. Quindi ecco perché devi pensarci quando ti sta succedendo questo, la prima fase, tutto perfetto, no, quante persone mi scrivono, ah, tutto perfetto, tutto fantastico, ci devi pensare, devi usare la testa. Questo periodo dura finché non ottiene quello che vuoi. Quando tu inizi ad accondiscendere allo stesso modo all'altra persona, l'altra persona si adagia e arriva poi il secondo tratto fondamentale, il secondo principio fondamentale, quello che ho scritto qua. Dopo un anno circa, o anche dopo molto prima, una volta che ho ottenuto tutto, diventerà la vittima e ti manipolerà per farti stare con lui, nella gran parte dei casi, per esercitare il controllo nei tuoi confronti e per riuscire in questo modo a mantenerti a sé. Ok?